Ciao e benvenuti al tutorial della version 1.6.4 Minecraft Beta 1.6.4 Le cose nuove sono Le trappole Non veramente trappole Adesso ve le faccio vedere Poi questo Ok questo è un sbaglio Vedete Sono tipo come le parte Sono uguali a porte Si può chiudere così Così tipo le entrate nelle gote non devono Cioè per esempio così Ti basterebbe coprirlo Ok questo è un esempio stupido ma Tipo se fai una gotta così no? Così puoi scendere Senza problemi Un'altra innovativa Quasi tutti i bug sono stati fissati Ehm Poi vediamo Cos'è c'è di nuovo Adesso faccio vedere Ok un attimo che partono Un'altra innovazione è il Grass Mod Che adesso è ufficiale Che adesso è ufficiale Come vedete lasciano Ehm Cadere questi sapling Cioè non di sapling Le cose per fare pane Ehm Un'altra innovazione Aiuto quanto valga Ok Adesso vi faccio vedere un'altra innovazione Questo è finalmente È arrivato Probabilmente sapete già cos'è Un'altra nuova cosa è questa Un attimo che Faccio una workbench Così La metto qua E voilà C'è la minimappa Andiamo di qua dove ci dovrebbero essere dei fiori E voilà C'è la minimappa E come nei giochi di strategia mi sembra almeno Cioè faccio un esempio banale Almeno è un po' realistico come la prende la mappa Ok Ok Perché Perché il gioco di strategia Perché anche lì no Si va avanti 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 Aia A Nei posti neri no A esplorare Wow 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 Che culo Stavo cadendo dentro Comunque Poi c'è un'altra innovazione Solo non la vedo Non l'ho ancora vista Ma voglio Camminare un po' in giro Per vedere un po' come funziona la mappa C'è qualche tasto C'è qualche tasto che si deve premere Che fa qualche No non volevo Fa qualche Boh Credo che ci sono tipo Si può cambiare la mappa C'è non mamma Si può cambiare il nome Della mappa Ho sentito dire Ehm Più non so ancora Ma ci sono anche Delle isole volanti Che non ho ancora trovato Anche se ci ho già cercato Tanto Tanto tempo Li ho cercati Faccio un stop qua Ciao Spero che questo tutorial Vi abbia Spiegato un po' cosa c'è di nuovo Ma Purtroppo Nocci ha deciso di Che se fate partire Minecraft Vedete tutti Le innovazioni Così praticamente Mi ruba Gli spettatori Ciao